Qui da noi, fra tanti nuovi amici, di certo troverai un bel sorriso ad aspettarti, tieni nel regno dei cuccioli. benvenuti alla prima caccia al tesoro del regno dei cuccioli avrete un indizio dovrete cercare di capirlo e trovare gli oggetti così poi ci divertiremo tantissimo insieme bibidi bobidi boo io sono rosa e blu sullo scaffale sto su su sono perfetto per i tutù c'è un solo posto dove cercare la sartoria di tilli tutti tutù ciao tilli che cos'è rosa e blu è su uno scaffale ed è perfetto per i tutù ah vediamo quei cappelli sono rosa e blu oh ma niente scaffale tu che ne pensi dreamy dreamy svegliati deve aiutarmi ti stavo aiutando nel mio sogno ero su uno scaffale vicino a un meraviglioso tool tutto rosa e blu ehi c'è davvero oh dreamy i tuoi sogni sono utilissimi ahio 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 mi puoi lanciare in alto se mi fa rimbalzare tanto dove arriverò con il mio salto un aeroplano gli aeroplani non rimbalzano i coniglietti si sultan non si lanciano i conigli ops ehm una palla sì il negozio di Lucy Squit Squit subito in buca scusaci tanto Lucy ci serve una palla grande o piccola che fa Squit che brillo che luccica ci serve solo che rimbalzi ho quello che fa per voi gustosi bocconcini nutrienti e sopraffini per tutti gli uccellini certo gli uccellini mangiano il becchime andiamo da mister ciao ciao mister ciao per caso ho un po' di becchime oh che cosa state cercando palline di peccano ci per nibbi cicoria per cinciallegre che ne dite di un gran misto a volontà oh che bravi i miei cacciatori del tesoro ora si deve fare e lanciare mitico miss featherbone capisco il perché del tulle e della palla ma di preciso a cosa serve il becchime ciò che è sbadi två era la lista della spesa principologia splendilo No!